Il giornalismo è soprattutto andare a vedere con i propri occhi e soprattutto uscire dalla redazione e incontrare le storie che si vogliono raccontare. Per noi è proprio un obbligo di format perché non esiste un programma di reportage senza gli inviati che vanno in giro. E' anche una grande occasione per verificare le ipotesi narrative sul posto e anche potersi ricredere nel caso in cui per adesso, per esempio, affronteremo il tema delle risorse naturali che questo paese possiede, a cominciare dalle foreste del Casentinese che stanno qui a 30 km di distanza ed è un lavoro che si può fare solo andando sul campo, toccando con mano, verificando. Ci dobbiamo assumere i rischi del mestiere, altrimenti che cosa gli diciamo al pubblico? Come ti presenti al pubblico? Con quale faccia? Cioè la gente capisce subito se tu ti fai l'autocensura. No, quindi l'autocensura no. Questo è un lavoro che si fa con il rubinetto della libertà corrente. La libertà non è come un rubinetto che si può spegnere o chiudere. Oggi ne abbiamo un pochino di meno, domani un pochino di più. Quindi tutti quelli che fanno l'inchiesta in realtà svolgono un servizio fondamentale anche per il resto del giornalismo perché ogni giorno, ogni settimana spostano la frontiera del narrabile un pochetto più avanti, dando il coraggio anche agli altri di raccontare magari cose che non si raccontano.